Sicuramente sono parole che fanno capire quanta delusione da parte sua ci sia nei nostri confronti per la partita di domenica. E' un momento in cui noi dobbiamo dargli una risposta. Nel senso che noi dobbiamo capire la sua delusione e capire che è il momento di rispondere sul campo. Perché noi possiamo fare solo quello. Però sicuramente è una responsabilità che noi dobbiamo sentire. Ma anche noi stessi ci siamo resi conto della partita di domenica. Non è che noi siamo stati insensibili a questo. Ci siamo resi conto che abbia sbagliato a uscire dal campo. Perché dopo che abbiamo preso il secondo e il terzo gol abbiamo sbagliato completamente l'atteggiamento. Perché ci siamo un po' fatti travolgere dagli episodi della partita e non abbiamo saputo reagire. Ma in questo momento noi dobbiamo renderci conto che la classifica è quella. Quindi adesso non lo so alla lunga se tra un mese sarà la stessa situazione. Però sicuramente noi adesso dobbiamo renderci conto che la classifica è quella. Senza pensare a magari tra un mese saremo in maniera diversa. E quindi affrontare la partita di sabato sapendo che in questo momento noi dobbiamo lottare per la posizione classifica che siamo. Sta a noi poi facendo risultati tirarci fuori. Abbiamo già avuto una situazione del genere quando abbiamo affrontato la Viterbese qua in casa. E lì abbiamo saputo reagire, abbiamo saputo dare un segnale. Quindi io mi aspetto che tutti insieme riusciamo a rispondere in ugual modo. Ma già la settimana scorsa, il venerdì forse, il giovedì insomma, eravamo stati tranquillizzati in questo senso. Quindi assolutamente questo è un problema che ovviamente c'è stato, ci ha colpito tutti. Quindi non è che è successo. Però da quel punto di vista la squadra non aveva questo problema. Non è che la partita di sabato è di peso da questo. Assolutamente non è in questo senso. Già avevamo parlato in precedenza con la società. È un momento in cui dobbiamo sicuramente stare uniti, tra compagni darci una mano in campo. E quindi sì, è un momento difficile, è un momento che però dobbiamo affrontare insieme, dobbiamo superare insieme.